Benvenuti amici, io sono Salopimpos, oggi torniamo alla Domenica Horror con Evil Nun 2 Oggi ci andiamo a provare una delle due armi ragazzi O la dinamite oppure lo spara uova in base a come viene caricata la partita Perché come sappiamo possiamo utilizzare una delle due cose per ogni partita Quindi iniziamo subito anche perché ancora non abbiamo finito il gioco in video, cioè ve lo faccio vedere Diamoci da fare, mi raccomando ragazzi supportate sempre la serie di Evil Nun lasciando un bel like Sfondati i pollicioni forse Così magari quando abbiamo già visto tutto di questo gioco cominceremo a fare le modalità un po' più difficili Perché ancora dobbiamo fare la facile tra l'altro, vabbè dico dettagli Allora scendiamo e andiamo subito in giardino così capiamo con che cosa abbiamo a che fare Nel senso a posto, bellissimo, grande così Vediamo se oggi riusciamo a farci una partita, va Allora, veloce però, veloce, non ti baggare Non mi uscire dal gioco per favore Allora, andiamo come detto in giardino per vedere con che cosa abbiamo a che fare oggi O con la dinamite oppure con lo sparauova Lo capiamo subito da qua, in base a quello che troviamo in giardino Allora, vediamo, diamo una rapida occhiata E qua abbiamo che cosa? Il contagocce Abbiamo a che fare con lo sparauova ragazzi Grande così Quindi, me lo avvicino va Quindi oggi utilizzeremo lo sparauova Io volevo iniziare dalla dinamite No, non usciamo Voglio iniziare dalla dinamite oggi Allora, riproviamo Sì, ma nel frattempo però dovevo vedere il codice prima Allora, codice numero 2228 A posto Ciao Nanna Continua a dormire in perterita Va che io vado ad esplorare Qua ti faccio esplodere come se non ci fosse un domani Se riesco a trovare la dinamite Altrimenti vi avvelenerò tutti Uno per uno Pollo per pollo Pinna per piuma Vabbè Avete capito Vi avvelenerò tutti Andiamo in giardino come sempre Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Abbiamo sempre il conto Eh vabbè Allora iniziamo dallo sparauova Va Non lo so Vuole che inizi per forza con lo sparauova Intanto me lo avvicino Qua che abbiamo Niente Il vuoto più totale Me lo avvicino Ovviamente Perché poi ci servirà Quindi lo buttiamo qua Chi se ne frega Si è rotto No Ecco perché ho un altro contagoccia Dove che lo vado a trovare Tra l'altro come sempre Sembra sempre un clistere Dico Non è che Non è che tanto contagoccia Perché i contagoccia Me li ricordo piccoli Quello è più un clistere Dico Scelte di sviluppo Vabbè Eh L'hai chiuso Qua c'è il pulsante Yes Quindi lo clicchiamo E qua c'è il pulsante Da queste parti No Non c'è il pulsante Voi siete fregati Vi fregate pure i pulsanti Mi fa piacere Qua ci sono passato Da qua niente Da qua dietro Qua dietro Sì Ah posto Forza Premi qua Premi qua Ok Però Sto notando una cosa Che non abbiamo le pinze In giro Ciò significa Che dobbiamo andare A recuperare La chiave Della cripta Ma quale gioco C'ho in mente Ciao nanna Come stai bene Tieni la testata Ti faccio cambiare gli occhiali A meno che non sia qua Eh Ti pareva Sero fortunato Com'è che è già aperto Qua Chi la Nan Ma che mi togli il lavoro Nan Non aprire i pannelli Che li devo aprire io Allora Niente Dicevo Ci serve la chiave Della serra Non della cripta Pure la ricetta Dunque 4 di acqua 4 di inchiostro 4 di pozione verde Quindi semplice Semplice 444 Meglio così Ovviamente la ricetta cambia Ad ogni partita ragazzi Quindi è inutile Che ve la memorizziate Attenzione Le cesoie sono qua Allora niente Mi sa che la chiave Della serra Non ci serve Qua non c'è niente Se le pinze sono qua Mi sa che in serra Possiamo anche evitare Di andarci Vediamo un po' Tagliamo i fili I pulsanti Li ho attivati tutti Giusto Li ho disattivati La batteria Ai cavi Sto puntando ai cavi Se poi tu guardi La batteria Sono problemi tuoi Me ne sto puntando I cavi Ok Prendiamo la batteria Ce ne possiamo andare Non fare il ramo C'è la notte Li distacco La cosa Me ne esco pure Allora niente Andiamo E l'altra volta Vi ho fatto vedere Come incontrare Joseph Sullivan Ovvero il padre di Rod Quindi Tramite la mod Che è uscita Se vi siete Per se il video Andatela a guardare Che fighissimo Allora questo Lo buttiamo qua Il contagoccio Ci serve il contagoccio Andiamola a prendere La chiave della serra Come detto Credo che non ci serva Quindi possiamo Eventualmente Non andarci completamente Vediamo Vediamo un po' Come si evolve La situazione E ce ne andiamo Nelle aule Forza Allora Spawniamo da qua E prendiamo subito L'acqua Visto che ce l'abbiamo Nell'altro bagno Non mi Non mi sbatte Le porte in faccia Maleducato Bimbo Le porte dall'interno Ok Prendiamo L'acqua Qua Perfetto E 4 di tutto Hai raccolto Il campione d'acqua Quindi cominciamo Con l'acqua Visto che ce l'abbiamo A portata di click Saliamo 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 E la strada È di qua Forza Perfetto Mettiamo l'acqua Provetta 1 2 3 4 A posto Adesso dobbiamo cercare L'inchiostro E la pozione verde Che si trova In uno degli armadietti Il problema È che gli armadietti Sono tanti Perché non è che Vi fanno le cose Semplici Semplici No Quando mai Dobbiamo trovare Anche il righello Da queste parti Cominciamo da qui Banco per banco Pezzo per pezzo Troveremo qualcosa Entro Natale È una nuova filastrocca Ragazzi Imparatela Perché è la mia filastroca Filastrocca di salvo Pimpos Qua niente Qua niente Qua niente Ecco Gli occhiali Ci servono Ovviamente Però vediamo L'inchiostro Grande Così Gli occhiali Li lasciamo là Prendiamo l'inchiostro Sappiamo che Gli occhiali Sono nella prima stanza Quindi niente Lasciamoli qua La chiave Penso che non ci serva Quindi continuiamo Andiamo ad inserire Anche l'inchiostro Quindi altre 4 gocce Di inchiostro Forza Forza 4 gocce 1 2 3 E 4 A posto Pozione verde Negli armadietti Il righello Ce l'abbiamo qua Ok Ricordiamoci i posti Perché poi ci servono Intanto completiamo la pozione Allora Tantissimi armadietti Da aprire Tantissimi Pozione verde Pozione verde Pozione verde Pozione verde Pozione verde Niente Pozione verde Niente Qua potrebbe essere Questi armadietti Potrebbe essere Effettivamente L'altra volta L'ho trovata qua E infatti Adesso non c'è Eccola qua Infatti Perché non ci guardo subito Allora Quando so dov'è Allora Campione verde Andiamo lì Ed eccoci qua Perfetto Inseriamo altre 4 gocce qua E la pozione Bella che è pronta Però metti la Ramoscello 1 2 3 4 Funziona Vediamo se Mi dice che È soporifera Non me lo dice Però dovrebbe funzionare Vabbè Che facciamo Andiamo direttamente Ad addormentare Nann Già ce l'abbiamo pronta Dico Utilizziamola Allora A sto punto Vediamo se funziona Allora Nann Ho fatto la pozione Adesso te la faccio bene A te E a tutti i tuoi scagnozzi Ramoscelli Così impari Dunque Ah No aspetta Che sto combinando Dobbiamo sbloccarci La chiesa Prima Vabbè Questo ce lo possiamo portare Forse Portiamoci un po' avanti Eh vabbè Allora prendiamo il reghello Sblocchiamoci il solaio Prendiamo la crowbor E sblocchiamoci la chiesa Voglio addormentare I namoscelli Assolutamente Righello Vieni a me Forse E ritorniamo lì Veloce 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 Ritorniamo lì Ritorniamo lì Che oggi addormentiamo Nann Con tutti i ramoscelli E credo che comunque Non si risveglino Funziona come la dinamite Quindi una volta addormentati Rimangano addormentati Per tutta la partita Buono Buonissimo Allora Inseriamo La Il righello Apriamo Apri 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 Il piede di porco Che si trova sempre Allo stesso punto Se non me l'hanno cambiato Giusto Apri Velo Non te la sbattere in faccia Il piede di porco Si trova sempre qua Grande così Torniamo 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 Che voglio sbloccarmi Lo spara uova Apriamo qua Apriamo la grata Ok E il piede di porco Non ci serve più Prendiamo la nostra Bella pozione La pozione Va messa Esattamente Eeeh Dove E qua Quindi mettiamo la pozione L'acqua santa Abbiamo avvelenato L'acqua santa Adesso dobbiamo andare A prendere lo spara uova Ovviamente Però prima Mi apro La cassa qua Perché prima che mi scordo Il codice Poi devo andarla a riguardare Quindi Due 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 Otto A posto Sblocchiamo Qua il femore Perché abbiano dovuto Utilizzare un femore Come Non lo sappiamo Però Dico È un femore Ti levi che sto buttando le ossa per terra Non rompere E' più veloce di me Allora Adesso Andiamo a prendere lo spara uova Ovviamente Perché voglio aprire sempre questa porta Chissà che non ci metteranno qualcosa con i prossimi aggiornamenti Nel frattempo È chiuso Saliamo 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 E prendiamo lo spara uova Ovviamente anche le uova A che serve uno spara uova senza le uova Ok Intanto prendiamo il pezzo prima E poi riscendiamo Mettiamo il primo pezzo Mettiamo il secondo pezzo Ed è pronto Forza Mi appena le uova Solo cinque purtroppo E va bene così Forza A post Via Via Più veloce Ovviamente se giocate in fantasma È inutile che fate tutto ciò Io lo sto facendo per farvelo vedere Ma in fantasma è inutile Sia fare la dinamita Sia fare lo spara uova avvelenato Che giustamente non vi prendono Che li ha avvelenato a fare Però dico È per vedere Riemergiamo Andiamo subito lì Dove abbiamo avvelenato l'acqua E avveleniamo le uova Veloce Veloce Sempre veloce Avveleniamo le nostre uova A post Prendiamo le uova Adesso siamo pronti ad avvelenare ragazzi Comincerei Dal primo che mi viene a tiro Ad esempio Adesso è Adesso non c'è nessuno Vi siete andati tu Ah eccovi qua Ecco lui che mi rompeva le scatole Crepa Ah E fatti un bel sonnellino Va Mi hai bloccato la strada però Siamo faccia di capra Tu che fai tanto il sapientone Crepa Si è spaccato il guscio Oh Alleluia Ne rimangono due Nan Dove sei Nan Eccovi qua Come siete belli Il ramoscello te lo uccido E Nan rimani tu Nan È arrivata la tua ora Crepa Nan Crepa A posto È quello che si metta a sonnecchiare Come un cadavere praticamente A posto Non dovrebbero risvegliarsi Non dovrebbero Però Dico nel dubbio Facciamo sempre attenzione Anche se siamo Dico in fantasma Che se ne frega Buttiamo lo spara uova Va bene Ce ne possiamo andare Eh Sempre che mi blocchi la strada Vediamo Non dovre Mamma mia che impressione Che fa Nan così però Nan Non sonnecchiare Nan Ma la porto Ma mi si è intersecata la testa di Nan Nan mi Ti porta a spasso Ti porta a spasso Nan ti va Nan che fai Nan Che fai la sonnambula Non dormire Nan Allora torniamo a prendere gli occhiali Perché adesso Giustamente Dobbiamo uscire da questa scuola malefica Gli occhiali erano qua Ne prendiamo gli occhiali Li buttiamo a terra per romperli E prendiamo la lente Forza Veloci che stiamo finendo ragazzi Stiamo finendo Forza Tutti dormono appassionatamente E noi possiamo uscire tranquillamente dalla scuola Senza essere disturbati Non c'è nessuno Vero Nan sta dormendo Giusto Non mi fate scherzi Allora questo lo mettiamo qua Ok E andiamo a prendere la batteria Veloce 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 Eccomi qua Ok Inseriamo anche la batteria Così attiviamo il pannello di luci Che troviamo giù In strada Quindi questo lo mettiamo qua Attiviamo il pannello Adesso dobbiamo però Far cadere la scatadeggia alla sua ora Suoniamo il campanello Forza Suora C'è qualcuno alla porta Vieni a vedere chi è Non ti ingurgitare ancora gelatica E poi vomiti Prendiamo il femore Ok Apri la finestrella Apri la finestrella Spingi la scatola A posto Di Possiamo tornare Da Sullivan Allora Adesso è tutto pronto Forza Sullivan Eccomi qua Forza Usa il telescopio Bimbo Non fare il menomato Sullivan Dove sei Sullivan Spicciati però Eccolo qua Alla buon'ora Ma dico Tutto sto tempo E qua i gelati si sciolgono Avanti su Spicciati Spicciati che ti tira una pietra d'acqua sopra Poi vediamo se per tutto sto tempo Veloce 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 Adesso c'è la suora lì Suora Dlindlond Io l'avevo Io l'avevo fatto più carino Come suono Voi ci avete messo proprio Quell'assordante Io avevo fatto il semplice Dlindlond Vabbè Su ora Avanti su Acquista sti gelati E poi ti faccio cadere la chiave Spicciati Spicciati Pigliati i gelati Ok Questa scena L'abbiamo vista in prima persona L'altra volta Quindi se ve la siete persa Andatevele a guardare Che io nel frattempo Mi vado a fregare le chiavi Ok Azionato la leva A posto Adesso ritorniamo in giardino A prendere le chiavi Eccomi qua Prendiamo le chiavi Dalla fogna E siamo pronti a uscire Ragazzi Finalmente Dopo mezz'ora di video In fantasma Figuratevi Infacile Con anni che vi rompe le scatole Quanto è che deve durare Una sessione di gioco Una partita Ritorniamo su E dovrebbero ancora dormire Dico Giusto State ancora dormendo Sì Altrimenti non ha senso Lo spara uova Tra l'altro Lo spara uova è migliore Della dinamite Ragazzi Perché È più facile da utilizzare La dinamite è un po' più complessa Da posizionare Bene Vabbè Ok State tutti dormendo Appassionatamente Io me ne vado Me ne vado Aspetta che apro la porta Apriamo la porta Ok Perfetto Ce ne possiamo andare Ragazzi Ce ne possiamo andare Tra l'altro l'avevo aperto Com'è che stai riaprendo Magicamente però Si sono risvegliati tutti E se li avevate uccisi Con la dinamite Si sono Sono resuscitati Magicamente Queste sono le magie di nan A posto Io me ne vado E voi rimanete qua A fare i polletti Fa freddo fuori È un pollo No 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 Non sente freddo Il pollo È nudo pure Ok Gioco completato In fantasma Però completato Quindi Fatemi sapere nei commenti Se voi siete riusciti A completare il gioco In una difficoltà Più elevata Cioè Almeno in facile Sor Madeline Porterà a termine Il suo rituale Continuerà a maltrattare Sempre più bambini Sei pronto per una modalità Di gioco ancora più difficile Dovrai sbarazzarti Dei polli Per scappare dalla scuola Ok Sviluppatori Keyplay Se sviluppo La produzione Va bene così Va bene Va bene così Allora il gioco è bellissimo Ragazzi È un po' lunghetto Devo dire Nel senso C'è troppi oggetti Da recuperare Però Molto molto bello Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Noi ci vediamo Nel prossimo video Iscrivete al canale Se non si è iscritti Attivate la campanella E perciò è tutto Al prossimo video Oggi ritorniamo Su Ice Cream Clown Gioco iniziato Quanto? Due settimane fa? Vi è piaciuto Devo dire che vi è piaciuto Siamo alle prese Con questo tizio qua Che sembra un incrocio Tra Spongebob E Rod Vabbè Comunque È un gioco Allora